e ciao a tutti ragazzi bentornati non gamer come voi siamo giunti all'ultima partita delle finali champions ho 40 punti ragazzi poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio 7 vittorie 12 sconfitte tra cui diciamo almeno 3 o 4 quasi rubate ragazzi potevamo essere tranquillamente 10 a 9 dai 10 vittorie e 9 sconfitte abbiamo comunque i premi della settima posizione pacchetto giocatori rari pacchetto giocatori rari maxi 1000 punti qualificazioni champions 1000 punti esperienza e 15000 crediti mancano 17 ore l'ultima partita non posso arrivare a 45 punti ragazzi quindi andiamo a foldarla tranquillamente questa è la squadra potremo giocarla però non serve a niente ragazzi questa è la maglia delle vittorie di quattro finali champions vinte andiamo a utilizzarla tutto pronto preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio anche battibile secondo me ragazzi ultimo match vediamo come si comporta mamma mia walker la sicurezza la palla per sarà è la palla olan dentro l'aria 1 a 0 infatti folda lui ragazzi joel 7 21 weber dopo 2 minuti e 39 se ne va vediamo gran gordi oland la connessione si è interrotta abbiamo vinto 1 a 0 contro joel sarina 7 quindi 8 vittorie 12 sconfitte per un pelo non arriviamo al livello 6 e andiamo ad aprire allora i pacchettini ragazzi peccato di un solo punto settimo livello delle finali champions ecco i nostri premi una scelta giocatore uno di due giocatori oro rari 84 più due di queste un pacchetto giocatori rari un pacchetto giocatori rari maxi mille punto esperienza e 15 mila crediti andiamo a sceglierci giocatori vediamo speriamo bene bright o shesney eh vabbè comunque male tutti e due prendiamo shesney anche non scambiabile mi sembra vediamo qua bright che ce l'ha già data incredibile va bene così dai niente ragazzi mille punti esperienza abbiamo finito le finali ci fa giocare già i playoff allora andiamo a vedere allora torniamo a 200 mila crediti e abbiamo questi pacchettini apriamoli e poi vi faccio vedere cosa ho trovato offline ragazzi non scambiabili dc italiana del bergamo calcio quindi dell'atalanta soloi 80 nulla di interessante ragazzi tutti non scambiabili due doppioni tra l'altro anche almeno abbiamo un'ombra poi mille crediti bene milinkovic savic che mandiamo via e pezzolano che mandiamo via allora ecco i pacchetti delle finali champions prima giocatori rari vediamo Spagna attaccante dell'atletico Madrid Morata 85 83 magari 85 ragazzi trovato e ritrovato Sergio Bruschetta sui mille e tre magari ci arriva siamo tutti sul mercato perché non valgono niente ragazzi un po' di giocatori sul mercato così facciamo qualche credito pacchetto giocatori rari maxi speriamo almeno in questo ragazzi almeno nella fatica delle 20 partite portiere Manchester United donana 85 vediamo quanto vale adesso nana speravo di meglio ragazzi almeno un walkout eccolo qua bene tot allora Matt Calfe che comunque i tots meno 10.000 valgono è venduto intorno ai 40.000 non se lo compra nessuno però mettiamolo intorno ai 35 almeno un tot poi abbiamo unana che viene venduto intorno ai vedo 2.500 offerti mettiamola almeno a 5.000 dai ragazzi 85 zilinski 83 schmidt 83 una e simono 83 nash no weng 83 roberto firmino tanti 83 tanti 82 comunque jacobson pacchetta andre silva mettiamo tutti sul mercato ragazzi e poi vi faccio vedere le registrazioni di che ho trovato ho trovato anche kim ben pe che comunque sui 3.000 ci può valere proviamo a metterlo perfetto ragazzi allora vediamo se abbiamo qualche altro pacchettino promo da aprire niente niente abbiamo gli scorta proviamo un anteprima pacchetto di questi vediamo se siamo fortunati insieme cdc francese del montpellier sembra di no ragazzi bill ball e niente di interessante quindi non compriamo niente faccio vedere il club allora cosa molto interessante ragazzi per le evoluzioni dovete fare evolvere Bernardo Silva e da 1.88 diventa 1.90 ottime statistiche con passaggio 94 e dribbling 95 ve lo consiglio assolutamente con lo stile evoluzione quindi da 88 diventa 1.90 vabbè ragazzi Bernardo che può andare al posto di Vobi ragazzi ho trovato cacca ragazzi ecco la bomba di oggi ho trovato cacca pacchetto icona vi faccio vedere le vittorie in food champions allora vi faccio vedere anche questa 9 a 2 contro derotto 143 fondazione ottobre 2020 quindi è un po' che gioca anche a fifa il gol di Erling Holland se n'era andato qua vabbè abbiamo preso Oscar faccio vedere cc brasiliano ottima carta ragazzi non l'ho ancora provata la possiamo provare insieme giocatore flashback Oscar ed è 1 possibilità intanto 5 adesso lo vediamo insieme e poi abbiamo trovato vabbè la Reiten 88 ma non solo la doppio walkout con Ederson con Ederson anche lui lo preferisco ad Allison ragazzi ed erano Ederson Reiten e Henry ottimo pacchetto andiamo a vedere se troviamo anche ecco qua Bernardo Silva che viene evoluto a 90 allora Grilish allora provo ad andare a vedere un attimo nella galleria si trovo eccolo qua cacca così lo vedete insieme a me allora appena aperto un pacchettino inutile eccolo qua pacchetto singolo icona base totale max 89 brasiliano coc icona cacca ragazzi guardate come si è mostrato icona base non icona tuona purtroppo perché c'è anche cacca itona tuona 90 comunque è stato veramente un bel colpo buonissimo giocatore cacca poi abbiamo trovato tanti giocatori tuono in prestito nei pacchetti adesso vi faccio vedere allora queste erano le cose un po' più belle da farvi vedere le vittorie ovviamente vinto 9 a 2 tra l'altro l'avversario si è ritirato a poco dalla fine il gol anche così di Salah entrando in porta ha giocato dai delle finale di Champions anche in modo molto bello questo è un altro gol di Salah sempre la tripletta 9 a 2 per il trentesimo punto bello bello è stato molto bello ragazzi ed eccoci tornati allora cacca tanto trovato poi potete vedere già qua Gomez ottimo giocatore anche se in prestito difensore centrale di terzino destro però come difensore centrale secondo me è il suo ragazzi ottimi anche stili di intesa giocatore forte di testa blocco rimessa lunga aereo anche se non stili di gioco plus ragazzi proviamo la catoto invece che ha stile intese giocatore plus stile di gioco rivela plus aereo prova di pressing forte di testa e tiro di precisione li devo ancora provare tutti ragazzi poi vi faccio vedere gli altri sempre tuono Joe Ellington e Closterman anche questo è un bel difensore centrale è un buon centrocampista centrale ma adesso ragazzi abbiamo i Vobi Bruno Fernandes Bernardo Silva De Bruyne e anche Kakà direi che siamo abbastanza a posto questa è una nuova formazione ragazzi e direi che siamo veramente forti ragazzi buonissima formazione allora visto che siamo insieme ragazzi abbiamo già aperto tutto allora abbiamo un altro pacchettino Euro Premium credo nient'altro anzi no la Champs Pro 2 vinta l'ultima partita insieme due minute durata col gol di Holland la mettiamo qui non abbiamo nient'altro da prendere andiamo a aprirci il pacchettino andiamo a fare una partita di Rivals pacchettino Oro Premium non scambiabile portoghese portiere del porto Diogo Costa trovato mille volte anche lui è utilizzato nell'SCR Assumption scambiamo ok mille crediti almeno 1200 crediti tanti giocatori venduti faccio vedere diventano 204 mila crediti 35 in vendita 65 venduti tra cui anche Gerson Rodriguez che abbiamo visto nell'ultimo episodio Alexander Anno Larry adesso li mandiamo tutti via e abbiamo tutti questi giocatori in vendita tra cui anche Matt Calfe quindi un po' di crediti in arrivo in teoria vediamo come andrà comunque 204 mila 770 crediti al momento aspetto sempre i vostri commenti con i giocatori che possiamo inserire nel gamer squad per migliorarci ragazzi per migliorare il nostro rank anche in finali champions dove abbiamo fatto piazzamento di 8 vittorie su 20 comunque non è malissimo ragazzi prima weekend league per me adesso andiamo a giocare le rivals che abbiamo un bel per due ritorniamo in divisione 7 cosa dite ragazzi due partite e ci torniamo dai ragazzi ecco la nuova magliettina champs 2 FC Barsebona non sembra forte andiamo a saltare prima che se ne va Diogo Jota Lewandowski si gioca tra kings e founders sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui ci spera ovviamente l'allenatore riesce a leggere la palla son 1 a 0 1 a 0 non ha sbagliato andiamo ad esultare così Ogmin son era buona palla dietro proprio son vede i vobi da fuori i vobi 2 a 0 la botta di vobi quasi all'incrocio dei pali 2 a 0 te ne puoi anche andare ragazzi 1 a 2 ancora son tiro e volta questa volta fa il 3 a 2 ce la fa segnare vuoi che rivobi salà 1 a 2 può andare da solo salà 4 a 2 siamo a 4 ragazzi ha sfiorato prima è gol e stavolta l'ha fatto guardate il mio ping ragazzi come va su quando c'è la palla lui e tiago tiago silva lo chiude lo fernandes son e finisce il primo tempo 4 a 2 e così finisce il primo tempo avevamo la partita la partita in mano adesso l'abbiamo ripresa vediamo come va il secondo tempo ripresa della partita ora 4 a 2 stiamo giocando molto bene ragazzi 1 per 2 per noi se vinciamo guardi all parte palla a holland che la tiene vede da solo son che si gira tiro giro e alison mamma mia però che azioni che stiamo facendo ragazzi palla ancora per son che la mette giù tiro e alison holland tiro alison non ci frega non ci frega palla dietro Bruno Fernandes c'è holland questa volta segna ragazzi 5 a 2 palla sulla testa di holland 5 a 2 credo che ve la lascerò tutta questa partita ragazzi doppia chiusura e lo chiudiamo Bruno Fernandes Salah può partire lui lo vede Salah saltiamo il portiere e facciamo il 6 a 2 ragazzi stiamo diventando veramente forti ragazzi l'avversario non è fortissimo ma le finali di Champions finali Champions ci hanno insegnato tanto ragazzi sono veramente dei mostri perché sotto di 4 reti stavolta non 2 attenzione Adegard segna segna ok sta giocando 6 a 3 ci sono ancora tanti minuti di gioco allora mette in pausa pallone era fallo vabbè giochiamola ragazzi c'è mezzo Salah e Holland i Vobi fa gol 7 a 3 anche con l'ag ragazzi Salah eccolo KK da fuori tiro così così può recuperare subito no ma è quasi finita ragazzi 7 a 3 4 gol di scarto sono 2 punti per noi 7 a 4 7 a 4 sono 3 reti di vantaggio ecco erroraccio della Baccia però recupera e la da Mudrik Watkins che palla Salah chiuso da Balde Mudrik Baccia Bernardo sbaglia ho esagerato Walker chiude Bernardo c'è Salah qua ragazzi mi si bug finisce così eh sì 94 palla dietro Watkins vediamo se riusciamo a segnare parata da Alisson Baccia non riesce a prendere finisce così 7 a 4 che partita 1 per 2 per noi contro FC Barzebona Flame Kaiser 8 9 8 per 2 ci manca solo una partita allora per andare in divisione 7 e 2 vittorie per prendere anche aggiornamento premi allora ragazzi la gioco io in singolo e ci vediamo ovviamente alla vittoria ragazzi ci vediamo tra poco ed eccoci ragazzi siamo 3 a 0 beh che andiamo in divisione 7 appena fatto gol con Holland attenzione adesso palla dentro ho chiuso dei Vobi Guardiola erroraccio 3 a 1 eh sì eh sì gol di Kite c'è ancora tanto da giocare ok dai abbiamo visto il tuo gol hai presi 3 e finisce così ragazzi siamo in divisione 7 hanno ottenuto il risultato che volevano e possono festeggiare la promozione sono felice per loro Pierre davvero se la sono meritata non era facile far risultato oggi divisione 7 vinto 3 a 1 ottima partita ragazzi e andiamo in divisione 7 con un bel per due nuova divisione e ce l'abbiamo fatta ragazzi a questo punto direi che siamo giunti al termine di questo episodio ragazzi vediamo se abbiamo qualche altro pacchettino ad aprire allora vediamo sì apriamo i pacchettini e ci salutiamo allora un bel sciolta giocatore 75 più a volte si trovano delle perle e questa volta non è il caso ragazzi torniamo avalos così a caso niente di interessante vediamo qua niente di interessante andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto e ci salutiamo ragazzi vi ringrazio come al solito di aver visto il video i nostri video stanno andando molto bene chiedo sempre di lasciare like commentare e condividere il video con i vostri amici iscrivetevi ragazzi iscrivetevi ho bisogno di arrivare a mille iscritti prima possibile germania cdc del celsi femminile leopols 81 tutti non scambiabili li teniamo tutti ovviamente tutti nuovi bene nulla di interessante ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi